Cosa non fa fare l'amore? Oltre a renderci ridicoli, ci fa commettere atti senza senso, come nel caso dell'improvvisato Graffitaro, autore di sette scritte in una sola notte in Lungarno Archibusieri a Firenze, cioè la strada sotto il corridoio vasariano che porta al Ponte Vecchio. L'uomo è stato scoperto grazie alle indagini della Polizia Municipale. Così è finito nei guai un 38enne campano per danneggiamento e imbrattamento. Il fatto risale alla notte tra Pasqua e Pasquetta, 21 e 22 aprile. L'indagine è durata diverse settimane e grazie alle immagini delle telecamere e ricerche sui social i vigili sono risaliti al presunto responsabile. Le scritte già rimosse erano tutte dichiarazioni d'amore. Qui si trattava di un uomo sposato che faceva lo scemo per un'altra donna e quindi anche qui è assolutamente non accettabile. Noi intendiamo anche di chiedere i danni perché di pulire queste superfici costa, quindi non è uno scherzo.